Andiamo al Segno della Vergine, bellissima luna transita nel punto più alto del vostro cielo, è una luna che parla di incontri, che parla di novità sentimentali, che parla di gioia di vivere, che parla di tempo libero, di divertimento, insomma preparatevi a vivere un weekend davvero entusiasmante in cui potrete sfruttare al top tutti questi transiti meravigliosi che ci sono in casa vostra, Venere, Mercurio e Giove soprattutto, la fortuna è tutta dalla vostra parte, insomma saranno due giornate intense sotto tutti i punti di vista, attenti solo a non esagerare con ad esempio gli sport quelli pericolosi. Andiamo al Segno della Bilancia.